In paradiso si beve vino, gli astemi facciano quindi molta attenzione. È stata una predica natalizia a dir poco divertente quella di Don Pietro Cesena, parroco di Borgo Trebbia, un'omelia che in pochi minuti ha fatto il giro dei social network, oltre a suscitare un voato quasi da stadio dei fedeli presenti a messa. Vi invito oggi a mangiare bene, a mangiare tutto, a bere con abbondanza. Vino buono perché il vino è segno della vita eterna. In paradiso, fratelli miei, gli astemi non potranno venire, perché si beve il vino.